ciao a tutti i crociatini che stanno guardando questo video oggi ho deciso che la fiaba della buonanotte ve la leggo io come le altre di questi giorni anche questa è di gianni rodari e si intitola una viola al polo nord siete pronti una viola al polo nord una mattina al polo nord l'orso bianco fiutò nell'aria un odore insolito e lo fece notare all'orsa maggiore che si è arrivata qualche spedizione furono invece gli orsacchiotti a trovare la viola era una piccola violetta mammola e tremava di freddo ma continuava coraggiosamente a profumare l'aria perché quello era il suo dovere mamma papà gridarono gli orsacchiotti io l'avevo detto subito che c'era qualcosa di strano fece notare per prima cosa l'orso bianco alla famiglia e secondo me non è un pesce no di sicuro il suo l'orso maggiore ma non è nemmeno un uccello hai ragione anche tu disse l'orso dopo averci pensato su un bel pezzo prima di sera si spasse per tutto il polo la notizia un piccolo strano essere profumato di colore violetto era apparso nel deserto di ghiaccio si reggeva su una sola zampa e non si muoveva a vedere la viola vennero foche e trichechi vennero dalla siberia le renne dall'america i buoi muschiati e più di lontano ancora volpi bianchi lupi e gazze marine tutti ammiravano il fiore sconosciuto il suo stelo tremante tutti aspiravano il suo profumo ma ne restava sempre abbastanza per quelli che arrivavano ultimi ad annusare ne restava sempre come prima per mandare tanto profumo disse una foca deve avere una riserva sotto il ghiaccio io l'avevo detto subito esclamò il rosso bianco che c'era sotto qualcosa non aveva detto proprio così ma nessuno se ne ricordava un gabbiano spedito al sud per raccogliere informazioni tornò con la notizia che il piccolo essere profumato si chiamava viola e che in certi paesi laggiù ce ne erano milioni ne sappiamo quanto prima osservò la foca com'è che proprio in questa viola è arrivata proprio qui vi dirò tutto il mio pensiero mi sento alquanto perplessa come ha detto che si sente domandò il rosso bianco sua moglie perplessa cioè non sa che pesci pigliare ecco esclamò il rosso bianco proprio quello che penso anch'io quella notte corse per tutto il polo un poroso squicchiolio i ghiacci eterni tremavano come vetri in più punti si spaccarono la violetta mandò un profumo più intenso come se avesse deciso di sciogliere una sola volta l'immenso deserto gelato per trasformarlo in un mare azzurro e caldo o in un prato di velluto verde lo sforzo la esaurì all'alba fu visto a passire piegarsi sullo stelo perdere il colore e la vita tradotto nelle nostre parole e nella nostra lingua il suo ultimo pensiero deve essere stato persa poco questo ecco io muoio ma bisognava pure che qualcuno cominciasse un giorno le viole giungeranno qui a milioni i ghiacci si scioglieranno e qui ci saranno isole case e bambini spero che vi sia piaciuta ora è il momento di andare a letto e mi raccomando studiate divertitevi teniamo tutti duro e ricordiamoci tutti che andrà bene serve pazienza ma insieme ce la faremo e ci rivediamo presto allo stadio un saluto da parte mia e sempre forza parma grazie